Registriamo strategie, progetti ed annunci. Tutto bene, ma quasi niente di realizzato. Abbiamo praticamente esaurito la cassa integrazione, stiamo raschiando il barile delle ferie e dei permessi, non si lavora a pieno regime e non si è ancora riscosso lo stipendio di luglio. E Gianni Rialti, della FIOM CGL, ha dar voce al disorientamento dei 35 lavoratori dell'opificio tecnologico di Terra Nuova Bracciolini, che oggi hanno scioperato per otto ore e che faranno altrettanto il prossimo lunedì. Negli incontri che abbiamo avuto con l'azienda, prosegue il sindacato, non abbiamo registrato la tradizionale conflittualità che può manifestarsi in situazioni di questo tipo. L'azienda continua a fare annunci e strategie che sulla carta avrebbero già dovuto saturare la produzione. La realtà poi è drammaticamente diversa e pone seri interrogativi sul futuro dei 35 lavoratori e di altrettante famiglie, qui l'età media e bassa non si arriva certamente a 40 anni. L'opificio tecnologico, ancora sulla carta, è collocato in un mercato in espansione. Il sito aziendale parla di produzione di elettronica di potenza, digitalizzazione industriale e stampanti 3D. Un'azienda del futuro, quindi, che però, a ferma Rialti, sembra non riuscire a realizzare quanto è in grado di immaginare e progettare, uno scarto tra teorie e prassi che rischiano di pagare i lavoratori. Grazie.